C'è questa, spazzacamina, campagnolo, cirosina, vanno i tre stornelli e poi staccano, riagriciati per spazziare un uomo, pupino, pupino verso pochi, c'è un uomo, per dire, benvenuti al marinelli caffè, il lunch bar, la 54esima edizione, il rotto l'organetto, la 54esima edizione, il rotto l'organetto, insieme a noi, prestigiosi, folici e reativi, mangiato, la sa, la sa, il nostro alfista di spicco, ero uscito a comprare le sigarette, torno a casa subito, della serie torno a casa subito, mo vai a dire a mamma che io fattu' tardi, ma se no l'organetto, mamma ha fatto tardi se no l'organetto, già me, 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 me sgrida perché, hai detto che sto sempre al bar, dico mamma ce l'ho al bar, stai sempre al bar, è un bar, è un bar, è un bar, è un bar, a un bar, è un bar, è un bar, è un bar... è un bar...